E' stata presentata l'edizione 2011 del Maratea Film Festival, la Kermess cinematografica arrivata alla sua terza edizione, che quest'anno si svolgerà nella Piazzetta del Gesù dal 5 al 7 agosto. L'evento, che mescola l'amore per il cinema alla suggestione della Basilicata e in particolare di Maratea, quest'anno si arricchisce di nuove prestigiose collaborazioni, come quella di Domenico Di Noia, vicepresidente della Federazione Italiana Cinema d'Essè e vicepresidente della Confederazione Internazionale dei Cinema d'Arte e d'Essè. E' come quella di Antonio Monda, scrittore e docente di cinema alla New York University. Il programma della terza edizione del Maratea Film Festival è una dedica, un omaggio al sud, al Mediterraneo, sia nella scelta dei film che negli incontri di attualità, ma anche nelle interviste a protagonisti del mondo del cinema e della cultura. Basilicata Terra di Cinema, a che punto è la Film Commission? Abbiamo chiamato gratuitamente, si sono offerti gratuitamente, quattro grandi esperti della materia. Insieme faranno una serie di incontri con tutta la partnership della creatività della Basilicata, dei creativi. Insieme, in una serie di incontri, dovranno decidere in 90 giorni qual è la formulazione migliore per la Basilicata in termini di organizzazione e anche il profilo migliore per poter guidare questa grande esperienza. Grazie a tutti.